Partiti per il di capo a 2016. Kaspersky non vuole sentire ragioni, va lui dritto per dritto scavalcando Grapas che cede immediatamente il passo. Giallotta ovviamente non si vuole far perdere il suo avversario diretto e cerca subito di mettersi in scia. Allargo a Zecca Garbugli, poi vuoi kicker per via interna e precedere diplomat Maximum Aurelius che lascia in coda il gruppo Basileus. Kaspersky davanti ma senza esagerare con Greg Passi in seconda posizione, Wachika che fa le corsie brevi in giubba grigia con le spalline del cap rosa. In quarta posizione Giallotta in giubba rosa con la V verde che segue da vicino le primissime. Allargo invece Zecca Garbugli, poi ancora diplomat in giubba blu scura Maximum Aurelius in bianco rosso che lascia in coda Basileus. Pegata viaggiata in maniera piuttosto rapida all'intersezione delle piste, Greg Pass che prova a presentarsi su Kaspersky. Wachika per via interna e Giallotta che si mantiene quarto, diplomat che emerge al quinto. Più dietro Zecca Garbugli, Maximum Aurelius e Basileus. Kaspersky che è sempre in vantaggio su Wachika che lo segue come un'ombra. Giallotta va per via interna facendo altrettanto, Greg Pass e 400 prova a rimanere in quota. Wachika che adesso si libera all'attacco di Kaspersky. Allargo Giallotta sullo stesso Greg Pass di fuori diplomat con Wachika che prende sottotiro. Kaspersky lo impegna severamente, Kaspersky all'interno, Wachika a largo che passa. Poi Giallotta che ci prova, Wachika che è passata nei confronti di Giallotta e Kaspersky. Nell'ultimo tratto Giallotta ci prova su Wachika, Wachika che argina Kaspersky, che argina Giallotta. Poi ancora Kaspersky. Maximum Aurelius e diplomat. Grazie.